Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Caos a tale e quale show. Dove la concorrente Alessandra Mussolini starebbe pensando di farsi trovare assente alla prossima puntata del programma. Ecco cosa sta accadendo e di motivi per cui si sarebbe arrivati a tale punto. Dallo scorso 30 settembre è partita la nuova avventura di tale e quale show. Il programma di Carlo Conti. Dove i personaggi famosi si misurano nel canto e nell'imitazione del cantante di riferimento. Talent ormai giunto alla dodicesima edizione e trasmesso ogni venerdì sera. Tra i concorrenti di questa stagione troviamo Alessandra Mussolini. Reduce dall'aver partecipato pochi mesi fa nelle trasmissioni condotte da Millie Carlucci. Vale a dire ballando con le stelle e poi al cantante mascherato. Nel talent in corso si trova all'ottavo posto dopo quattro puntate. In una classifica guidata dal cantante Antonino Spadaccino. Ma nel prossimo appuntamento l'ex politica ed attrice dovrà misurarsi su un'imitazione particolare e molto discussa. Al termine della scorsa puntata. Come ormai avviene da sempre nel programma di Conti. Il conduttore toscano ha anticipato quale sia l'artista con cui i concorrenti dovranno trasformarsi nella successiva puntata e svolgere la rispettiva esibizione. Per quanto riguarda Alessandra Mussolini è stata selezionata Sofia Loren. La quale sarebbe sua zia. In quanto sorella di sua madre. L'opinionista tv Maria Scicolone. Una scelta per cui la concorrente è rimasta particolarmente sorpresa. Nei giorni di preparazione al prossimo serale ci sarebbe però stato il rifuto di esibirsi per tale imitazione. Fino alla voce trapelata dal sito di Davide Maggio. In cui la partecipante al programma avrebbe deciso di abbandonare la sala prove. Resta dunque difficile da capire se Alessandra Mussolini proverà a trasformarsi in un altro artista o nei panni di Sofia Loren. La quale. Pur conosciuta per i suoi numerosi e celebri film. Negli anni 60 e 70 incise tre album. In attesa di capire quale sarà la scelta definitiva da parte della produzione di tale e quale. La curiosità riguarderà quanto accadrà nella puntata prevista venerdì 28 novembre in prima serata su Rai 1 e chi avrà tra le parti in causa un ripensamento. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.